Se vedessimo Gesù, se lo incontrassimo, capiremmo subito quel che ci manca. Appena levati gli occhi a Gesù, capiremmo che ci ama, che ci cerca, che ci aspetta da un pezzo, da sempre, e che noi non abbiamo mai veramente creduto alla sua esistenza, al suo amore. Questo è il nostro maggior peccato, e che dobbiamo prima di ogni altro confessare. E se ci chiedesse incontrandoci oggi come allora, credi in me? Credi nel mio amore per te? Credi che ti abbia abbastanza amato e desiderato per poterti perdonare i tuoi peccati, per poterti far cambiare vita? Credi di poter vivere col mio aiuto una vita nuova? Di fronte a queste domande, penso che rimarremmo in silenzio per molto tempo, prima di poter balbettare una risposta che sia segno d'amore e di disprezzo dei nostri peccati. Grazie. Grazie.